Musica Buonasera! È stato un viaggio ricco di emozioni, ma il bello deve ancora arrivare. Musica Le quattro squadre si sono completate, niente va più? Vinci, me ne avresti uno dei due, no? Io so cantare, so suonare, so suonare Coach, siete pronti? Ci siamo? Antonella Clerici conduce Viva la vita! The Voice Senior, la semifinale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia nuova puntata di recensione alla nuova edizione di The Voice Senior, il programma record cult di Ray 1 che vede sfidarsi sul palco, uno dei più famosi d'Italia, di Ray 1 le voci over 60 più belle d'Italia è un programma condotto da Antonella Clerici che è arrivato ragazzi ai suoi knockout ovvero alla sua grandiosa semifinale andata in onda questo venerdì che ha deciso chi sono i tre migliori talenti per ogni squadra, per ogni team di ogni coach a passare direttamente alla grandiosa finale di The Voice Senior 2023 di settimana prossima quindi insieme ragazzi siamo davvero ragazzi scusate siamo davvero arrivati alle battute finali di questo The Voice Senior 2023 e quindi andiamo a scoprire ragazzi insieme chi sono stati i tre talenti per ogni squadra che sono passati di diritto come finalisti di questa edizione che sono stati i tre I ain't love everywhere you say If you don't know the things you did You can leave your head on You can leave your head on Sei nell'anima E lì ti lascio per sempre La idea di far l'amore con lei Un ritmo isterico che fa Mannino non aver paura Di sbagliare un calcio di rigore E quindi sì ragazzi Loro sono i finalisti di questa edizione di Noyes 2023 Davvero di talenti straordinari uno più forte dell'altro Devo dire che sono d'accordo con le scelte fatte dai coach Tranne con una di Loredana Bertè che ha portato in finale la sua amica corissa storica Contra invece un talento Invece un altro Che secondo me meritava molto di più Però vabbè A parte questo Devo dire la verità che ragazzi Quest'anno non so chi potrà vincere questa edizione Perché ogni squadra ha dei talenti eccezionali Uno più forte dell'altro Sia Gide Alessio che Labertè Forse un pochino meno i ricchi e poveri Clementino quest'anno ha dei talenti molto forti Forse potrebbe essere il suo anno Però non ci resta ragazzi che scoprirlo Nella grandiosa finale di The Voice Senior 2023 Di venerdì prossimo Io vi ringrazio di questo video Spero che vi sia piaciuto Lasciatemi un like Fatemi sapere se i cantanti finalisti di questa edizione vi piacciono oppure meno Siete d'accordo invece con le scelte fatte dai coach E ci vediamo domenica prossima Con la recensione dell'ultima puntata Della grandiosa finale di The Voice Senior 2023 A presto Buona sera Buona sera Buona sera